Hai che sono qui! Vieni da mamma! Wow! Questa sì che è una bella presa! Ho già finito le patatine? Che problema c'è? Spero tu stia scherzando! Forse dovrei dargli una lezione! Quanto meno ha le sue papille gustative! Prendi della plastilina! E un porzionatore da gelato! Prendine un bel pezzo e mettilo in un cono gelato! Sopra mettici del caramello e dei confettini! Non mi pento di nulla! Anzi, ne vorrei un altro! Prendo questo! Grazie mille! Perché è caldo? Ma non è gelato! Che diamine è questa roba? Devo togliermela dalla lingua! È tutto tuo! Vediamo cosa abbiamo qui sotto! Forza! Alza tu per primo! Wow! Guarda qui! Ehi! Dov'è il mio cibo? Mi sembri un po' invidioso! Non è giusto! Che ho fatto per meritarmi questo? Intanto mangio le mie caramelle! Ma cosa? Ehi! Hai visto? Una torre di caramelle! È la cosa più bella di sempre! È enorme! Mi prendi in giro? No! Non può essere vero! Non importa! Ho comunque le mie caramelle! Devono essere buonissime! Infatti! Forse ci metterò un po'? Ma mi godrò ogni singolo boccone! Chi è invidioso adesso? Posso averne un po'? Per favore! No! Sono mie! Buonissime! Presa! Cosa? Piovono caramelle! Quanto vorrei che durasse per sempre! Mi sento così vivo! Oh no! Cosa mi tocca vedere? Aspetta! Che succede? Cosa stai fissando? No! Che mi sta succedendo? Oh! I brufoli! Ma che strano! Non muoverti! Questa la prendo io! Che stai facendo? Mmm! Buonissima! Ne voglio altre! Stai indietro! Chissà cosa accadrà stavolta! Rendiamolo interessante! Oh! Ti piacciono le sorprese? Non sbirciare! Ma io devo guardare! Mmm! Aglio! Che delusione! È grossa anche! Tu almeno hai una sola testa! Io ho il piatto pieno! Spero non abbia un appuntamento galante a breve! Finiamola con questa storia! Non può essere così disgustoso! Schiaccio la testa! La sbuccio per bene! Ok! Buona fortuna a me! Non ci siamo! Che schifo! Lo stai mangiando davvero? Alla fine è ok! Ho mangiato di peggio! Il tuo alito fa schifo! Devi proprio lavarti i denti! Forza! Inizia! No! Non voglio! Non voglio neanche toccarli! Non posso! Che stai facendo? Ok! Ok! Lo mangio! A proposito di pressione! Che scherzo crudele! Prima lo sbuccio! Ce la posso fare! Fingerò che sia una caramella! Una caramella orribile e puzzolente! Che schifo! Ecco! Mastica! Grazie per l'incoraggiamento! Uno è andato! Non ne mancano ancora un sacco! Uh! E questo è l'ultimo! Ora sento solo il sapore dell'aglio! Sai, in fondo non è malaccio! Ci si abitua! Uh! Sembra quasi che la mia faccia si stia sciogliendo! Non dire queste cose! Neanche tu hai un buon odore! Aiuto! Gira tutta la stanza! Non mi sento molto bene! Liam! Stai bene? Non è colpa mia! Ma questo è aglio! Cosa? Sono salva! Wow! In effetti anch'io sento puzza di aglio! Cosa... Cos'è successo? Olivia fa qualcosa! È terribile! Intanto uso questa! Ma non per me! È proprio necessario! Sì, lo è! È così umiliante! È per il mio bene! Sei pronto? Sono nato pronto! Apriamoli! Wow! Palloncini! Ma non possiamo mangiarli! Sono un po' confuso! Aspetta! Ho un'idea! Dovremmo scoppiarli! Che ne pensi? Che sarà rumoroso! Copriti le orecchie! Inizio io! Preparati! Ehi! C'è qualcosa dentro! Wow! Bulbi oculari! Dammi la spilla! Tieni! Coraggio! Wow! Che bel botto! Wow! Guarda quanti occhi! Ehi Liam! Ti sto guardando! Aspetta! Perché ne hai così tanti? Oh! Io ne ho solo due! Fa nulla! Me li godrò comunque! Mmm! Belli morbidi! Scelgo questo! Che strano! Ma il sapore è fantastico! Devo provare anche gli altri! Che delizia! Potrei mangiarli tutto il giorno! Non immaginavo di mangiare degli occhi così buoni! Liam! Va piano! Non posso! Sono troppo buoni! Io... Mi sento diverso! Che mi succede agli occhi? Wow! È incredibile! Guarda! Oh! Giallo! Ok! È un po' inquietante! Ma mi piace! Sì! Stai... Bene! Oh! Devo ruttare! Non ci credo! Ma è una magia! Ops! Chiedo scusa! Rifallo! Estrarmi! Devo solo scolpire qualcosa di migliore della scultura di Annie! Aspetta! Mi è venuta un'idea fantastica! Si pentirà di essere stata cattiva con me! Per prima cosa avrò bisogno di questa plastilina rosa! Ne tolgo soltanto un pezzetto! E la rotolo finché non avrà la forma di una palla! Poi la appiattirò e tirerò fuori il mio righello! Userò il lato piatto per tagliare un bordo dritto sulla plastilina! Poi lo farò anche sugli altri lati! Dei bei bordi dritti! Perfetto! Adesso è fantastico! Adesso l'involucro della gomma sarà perfetto! Scarterò soltanto un pezzetto di gomma da masticare! Et voilà! Sembrano quasi identici! Chi è un cattivo scultore adesso, Annie? Tirerò fuori questa gomma e la sostituirò con la plastilina! Quindi la avvolgerò di nuovo e la metterò nella confezione della gomma da masticare! Proprio così! Ehi, Annie! Vuoi un pezzo di gomma? Ecco un bel pezzo per te! Oh, mi sa che è proprio buona! Oh, se la sta mettendo in bocca! Sì, l'ha fatto! Ha mangiato la gomma finta! Non vedo l'ora di vedere la sua faccia! C'è qualcosa che non va con questa gomma! È disgustosa! Devo togliermi questa gomma dalla bocca! La sputerò! Decisamente la sputerò! Oh! Me l'ha sputato in faccia! Aveva un saporaccio! Quella non era una gomma! Sembra che adesso siamo pa- Ciao! Ciao! Wow! Vuoi giocare? Certamente! Guarda! Fantastico! Guarda che roba! Cento pezzi tutti in questa bottiglia! E li mangerò tutti! Wow! Arrivo! Mmm, è delizioso! Io ho una sorpresa gommosa! Uh, guarda! Vieni da papà! Mmm, arancia bella aspra! Tutto qui! Wow! Come sono arrivati qui! Impossibile! Enorme! Quanti ce ne saranno dentro? Cento, cara! Wow! E sono tutte per me! Iniziamo la festa! Devo sapere cosa c'è sotto il mio! Eh! Cosa? Ma non è giusto! Io ne ho pochissime! Meglio di niente, suppongo! Mangiamo! Mmm, mmm! Bella croccante! Guardate che roba! Fantastica! Deve essere bello! Proviamo! Mmm, sai cosa la renderebbe migliore? Un bel bicchiere di latte! Più fresco di così non si può! Andiamo! Eccolo lì! Ottimo lavoro, ragazza! Mmm! Grazie per l'aiuto! È ora di andare a fare un bagno, ragazze! Ci stanno benissimo! Sui bicchieri! Mmm, non male! Oh! Sono pieno! Cos'è quello? Brucialo se non riesci più a mangiare! Davvero? Ma come? Usiamo questo accendino! Guarda! Bruciamo tutto! Sei sicuro? Oh, cavolo! Buona idea! Manca poco! Wow! Guarda come va! Che bello! Wow! Vai prima tu! Ok! Oh, quanti limoni! C'è un intero albero qui! Si mangia! Mmm! Uh! Bello succoso! Ne voglio un altro! Gnam! Ok, tocca a me! Uh! Una fetta di limone! Caspita! Wow! Idea! Ho già l'acquolina! Guarda! Contento tu! È l'ora della degustazione! Mmm! Oh oh! È asprissima! Oh no! Non preoccuparti! Sono qui! Potrebbe fare un po' male! Cavolo! Resisti! Uh! Andiamo! Accidenti! Ce l'ho fatta! Meno male! Ne ho avuto abbastanza! Come preferisci! Aspetta un minuto! Adesso mi è tutto chiaro! Oh sì! Guarda, eh! Vai col succo! Pronta? Ehi! Oh sì! Stavo per usare questo! Vai, mettilo dentro! Pronta? Spremiamo questo ragazzaccio! Guarda! Wow! Ora un po' d'acqua! E queste? Serve decisamente dello zucchero! Abbasso l'amarezza! Perfetto! Ci siamo quasi! Ecco, ora sì! È a dir poco perfetta! Sarà super rinfrescante! Diamoci dentro! Grazie! Brindiamo a noi! Cin cin! Cin cin! Ricorda! Prendiamo solo l'essenziale! Ok, ok! Vorrei proprio fare uno spuntino! Una bibita! Ecco cosa! Torno subito! Ogni volta sempre la stessa storia! Uh! Adoro le patatine! Ok, ci sono! Assolutamente no! Puoi prenderne una da qui! Eh, non credo proprio! Ah, è così! Mettili via! No, smettila! Dove siamo? Ehi! Guarda un po'! È un pulsante misterioso! Dovremmo prenderlo! Sì! Non riesco più ad aspettare! Aspetta! Voglio farlo io! Ok, vai pure! Ecco fatto! Wow! Guarda quanto formaggio! Aspetta, ma non è giusto! Senti che buon profumo! Ed è tutto mio! No, un'idea! Avevo comunque bisogno di una manicure! Mi piace questo look! Credo di essere pronta! Ho le dita a un tè di formaggio! Ho sempre sognato questo momento! Cominciamo a intingere! Wow, com'è molliccio! Ma è delizioso! Ne voglio altro ancora e ancora! Sono nel paradiso del formaggio! Ehi, vai piano! Ups! Sta bene! Sul serio? Beh, immagino che adesso sia il tuo turno! Ok, iniziamo! Fammi pensare! Aha! Torno subito! Sto per cuocere questa fetta di formaggio! Mettiti comoda! Non ci vorrà molto! Così dovrebbe bastare! Non voglio cuocerla troppo! Sono contento del risultato! Meglio tornare al tavolo! Hai un po' un'occhiata? Un cracker croccante al formaggio! Lo provo subito! Wow, è buono! Eh... Cos'è stato quel rumore? Ho creduto di aver rotto un dente! Sì, onesta e grave! Non sorriderei più di tanto! Conosci un buon dentista! Sei pronta? No! Vediamo chi tocca! 1, 2, 3... Ho vinto! Una montagna di marshmallow! Io invece ho solo questo! Oh, ma dai! Miles ha una montagna di marshmallow! È meravigliosa! Credo di essermi innamorato! Mi piacerebbe avere qualche altro marshmallow! La prossima volta ti andrà meglio che il piacere abbia inizio! Come sono soffici! È come mangiare una nuvola! Guarda un po' qui! Queste velocizeranno le cose! Non sono mai stato così felice! È il giorno più bello di tutta la mia vita! È la mia occasione! Sto indietro! Sei diventato cattivo! Aspetta! Ho un'idea! Avrò bisogno di un microonde! Sto per dare spettacolo! Com'è eccitante! Dovrei proprio essere uno chef! Farò in fretta! Oh! Credo proprio che sia pronto! Diamo un'occhiata! Proprio come avevo immaginato! Un marshmallow gigante! Questo sì che è meglio! Cosa? Non ci posso credere! È impressionante, vero? È normale essere invidiosi? È delizioso! Lo adoro! Non ho mai provato nulla di simile! Mi si sta sciogliendo in bocca! È il re dei marshmallow! Non riesco a smettere di mangiare! Ho finito! Wow! Dammi il cinque! Eh, non credo proprio! Ah? Oh, scusa! È meglio che mi renda presentabile! Iniziamo lo spettacolo! Dai! Eh, e questo cos'è? Una nugget? Beh, che delusione! È uno scherzo! Vorrei parlare con il responsabile! Aspetta un secondo! Chissà se... Magari premendo il pulsante! Ha funzionato! Vedo un altro nugget! Potrei farlo tutto il giorno! Andiamo avanti! E io! Guarda quante nuggets! Adesso va molto meglio! Passami quel pulsante! Potresti almeno dire per favore! Forza, altre nuggets! Oh, è rotto! Dove sono le mie nuggets? Forse devo cambiare le batterie! Ora, con il tuo permesso... Wow, che buone! Ma perché non funziona? Ah, ho capito! Preparerò un sandwich! Ho tutto ciò di cui ho bisogno! Dividerò la nugget a metà! E la metterò sul pane! Aggiungerò un po' di ketchup! Ora del formaggio! E poi ancora pane! Ma non ho finito! Aggiungerò altri strati! Un capolavoro! Mmm! Lo taglierò con questo! Diventerà un quadrato perfetto! C'è ancora una cosa da fare! Darò una spennellata con l'uovo! Questo lo renderà particolarmente gustoso! Mi darà grandi soddisfazioni! Non vedo l'ora di provarlo! Ora posso cucinarlo! Voglio che sia ben odorato! Non dovrei metterci troppo tempo! Wow, guarda un po'! Esattamente quello che volevo! Sono un genio culinario! Senti che buon profumo! Ho mangiato troppi nuggets! Ho bisogno di qualcos'altro! Qualcosa con un po' di sapore! Posso prenderlo in prestito! Certo, tutto tuo! Sei la migliore! Questo migliorerà le mie nuggets! Il ketchup non è mai abbastanza! Così va già meglio! Ora sono più felice! Lo proverò subito! Wow, molto meglio! Sono deliziose! Grazie! Non c'è di che! Fammi ritornare al mio panino! Più in alto, mamma! Aspetta! Ops, che strano rumore! Mamma, potremmo avere un problema! Ho bisogno di un bagno! Questo è un vero problema! Mamma, per favore, fa qualcosa! Guarda laggiù! Puoi usare i cespugli! Mi va bene qualsiasi cosa! Questa è un'emergenza! Aspettami, appunto qualcosa! Ai, ai! Oh no! Stai bene, tesoro? So cosa fare! Abbiamo bisogno di questa sedia! Devo fare un buco al centro! Queste lezioni di karate mi stanno tornando utili! Beccati questo! Wow, ci sono riuscita! Dopodiché abbiamo bisogno di un sacchetto di plastica! Lo metterò nel foro! Mettiti comoda! Grazie, mamma! Ah, che sollievo! Ok, ho finito! Il tempo è perfetto per fare una passeggiata! Wow, guarda! Eh? Cos'è? Disegni con il gesso! Voglio disegnare qualcosa! Oh, ok! Perché no? Ho dei gessetti nella borsa! Ecco a te! Che belli! Mamma, guarda qui! Ehi! Mamma è al telefono! Stai andando benissimo, tesoro! Lo pensi davvero? Ci ho lavorato duramente! È fantastico! Puoi fare una foto? Voglio un ricordo di questo momento! Sorridi! L'hai fatta? Fammi vedere! Huh? Ma perché è così? Non si vede bene il disegno! Wow, non sapevo che fossi un esperto di fotografia! Scusami! Aspetta un attimo! Fammi vedere! Forse so cosa fare! Non ci metterò molto! Schiaccerò il gesso e lo farò diventare polvere! Aggiungerò qualche altro elemento! Così dovrebbe andare... Sì! Mescolerò bene! Dovrò fare una specie di impasto! Perfetto! Sembra venuto bene! Adesso mi servirà un pennello! Ecco a te! Non ti deluderò! Adesso posso creare il mio capolavoro! Sarà bellissimo! So già cosa dipingere! A mamma piacerà tantissimo! Cambierò i colori! Sarà un arcobaleno! Non devo assolutamente sbagliare! Voglio che sia perfetto! Ho quasi finito! Ok, ci sono! Ehi mamma! Guarda qui! Oh, ma è meraviglioso! È veramente stupendo! Ti voglio bene mamma! Sento un profumo delizioso! Oh, stai preparando i pancake! Posso assaggiarli? Non così in fretta! Devo finire di prepararli! Li impilerò uno sull'altro! Sarà come una torre di pancake! Bella, vero? Prova a buttermi! Fammi pensare! Aha! Userò i marshmallow! Sembrano buonissimi! E sono meglio dei pancake! Ah, non credo proprio! Ecco fatto! Eh? Ma cos'è successo? È il momento della sfida dei cento strati! Oh, sembra interessante! Non perdiamo tempo! Comincia Betty! Grazie mamma! Wow, ho delle patatine! Questo è il mio giorno fortunato! Non sono mai stata così felice! Wow, guarda che belle! Sapevo che ti sarebbero piaciute! Ok, tocca a te! Spero sia qualcosa di gustoso! Ah? Una sola patatina! Tutto qui! Aha! Che divertente! Ma me la godrò comunque! Non voglio sporcare! Userò coltello e una forchetta! Sono pronta! Iniziamo! Uh, com'è croccante! Me la gusterò tutta! Mmm, veramente buona! È così saporita! Goditi della tua unica patatina! Adesso mangerò le mie! Mmm, ho un'idea! Impilerò le patatine in questo modo! Avanti così! Ancora un po'? Sta venendo bene! Diventerà altissima! Fantastico! Mi piace la tua idea! Guarda quante! Vuoi provare? Volentieri! Ecco a te, fai pure! Wow, che emozioni! Mettiamone un'altra! Uh, aspetta! Nooo! Cos'hai fatto? La mia torre di patatine! Hai rovinato tutto! Già che ci sono, posso prenderne una! Sono tutte mie! Cosa troveremo questa volta? Ho in programma qualcosa di speciale! Ecco chi arriva! Uh, del popcorn! Adoro il popcorn! Aspetta, cosa ti è capitato? Non ne voglio parlare! È uno scherzo! Mamma, spiegami! Non sono affatto contenta! Mi stai prendendo in giro! Che ingiustizia! Beh, tanto vale iniziare! Un solo popcorn! Oh, che delusione tremenda! Oh, non ho proprio parole! Ehi, ho trovato! Devo seguire la scienza! Condurrò un esperimento! Iniziamo! Vediamo un po' più da vicino! Interessante, molto interessante! Penso di avere tutto il necessario! Ecco la mia pozione segreta! No, è solo la mia bibita preferita! Ci immergerò al popcorn! Spero davvero che funzioni! Voglio che assorba la bevanda! La assaggerò subito! Eh, eh, disgustoso! Che scena comica! Io mangerò i miei popcorn! Mmm, che buoni! Come vorrei che non finiscano mai! Oh, che invidia! Ok, sono finiti! Oh, ne è rimasto uno! Non voglio sprecarlo! Lancio lungo! Mio! Preso! Mmm, delizioso! Ma cos'è successo? Ti ho fregata! Sei troppo lenta, cara! Me ne ricorderò! Amo! Nonna! Guarda, dovremmo aprire questi! Oh, ok! Ci siamo! Nutella? Gnam! Apri il tuo! Oh, lo farò! Eh? Riesco a malapena a vederlo! È così piccolo! Appena sufficiente per un solo boccone! Oh no, che peccato, che tristezza! Diamo inizio alla festa! Oh, santo cielo! So cosa fare! La mia torta! Uh, così pesante! Un piccolo e dolce cioccolato! Wow, sta facendo una torta! Sicuramente non io! Questo cucchiaio va bene! Wow, super ricco! Non so se funzionerà! Tieni questo! Mmm! Ho bisogno di qualcosa di più piatto! Sto dando il via a questo progetto! È proprio grande, vero? Perfetto! Ora iniziamo a spalmare! È soddisfacente o no? Si spalma benissimo! Fantastico! Wow! Vorrei avere una torta! Beh, ok! Ho capito! Il mio forno di Barbie! E la mia cucina di Barbie! Bisogna tostare il pane! Bello! Cioccolato, per favore! Ora mi serve la mia spatola! Ecco! È come se fossero fatti l'uno per l'altro! Mi serve una bella paletta! Beh, in questo caso è grande! Wow! Vedi? No, non posso! Visto? Proprio qui! Ops! Nonna! Oh, questo non va bene! Belle lenti al cioccolato! Ehi, abbiamo finito? Quale dei due ti piace di più? Oh... Uh! Ok! Ehi! Cosa? Prima le signore! Ai ragazzi! Oh, guarda qua! Wow! Sembra molto buono! Che spettacolo per gli occhi! Tocca a me! Wow! Ma ne ho solo uno! Un piccolo cupcake triste! Sembra un piccolo problema! Io devo decorare dei cupcakes! Inizio con il giallo! Devo concentrarmi! Facile! Ecco! Uffa! Tanto vale provarci, credo! Chi ha bisogno di utensili? Funziona benissimo! Visto è bellissimo! Ehi! Non toccare il mio cupcake! No! È così piccolo! Lo prendo! Jared! Guarda cosa mi hai fatto fare, Jared! Ciao! Belle tortine! Non parlo con le mosche! Il mio cupcake è rovinato! Ma aspetta! Ho un'idea! Ci metterò sopra un altro strato! E boom! Wow! Guarda un po'! È il momento del terzo strato! Visto? Strato numero quattro, per favore! Boom! E' bellissimo! E' bellissimo! Ma non ho ancora finito! Vediamo! Wow! Bello! Oh! Ora guarda questa bellezza! Non è bellissimo! Come una vera professionista dei cupcakes! E l'ho fatto tutto da sola! Bello, nonnina! Fuori di qui! Sono entusiasta! Ehi! Ce la giochiamo? Carta, forbice, sasso! Forbice, batte, sasso! Ok, va bene! Questa è divertente! Cosa? Niente! Non è possibile! Oh no! Che peccato! Che tristezza! Ma sembra che abbia fatto centro! No! Il mio dente! O meglio i denti! Stupide caramelle! Che ridere! Non è divertente! Beh, ho bisogno qualcosa di preparare qui! Ci deve essere qualcosa su cui lavorare! Ok, deve essere sotto di te! Davvero? Niente! Che sfortuna! Ne ho tantissimi! Ma certo! E' qui da qualche parte! Cosa? Cosa c'è? Ho della farina! E il mio mattarello! Giusto? Incredibile! Va tutto bene, baby! Accidenti, che schifo! Mi dispiace! La parte superiore deve essere bella piatta! Bellissimo! E ora un po' di panna! Tanta panna! Quindi spianare il tutto come se fosse una glassa! Splendido! Ora la parte più divertente! Oh sì! Ci siamo! Wow! Attenta! Ma continua pure! Ecco! E ora? Posso creare un design divertente! Tutti hanno un posto! Ehi! Gustosissimo! Tada! Dai un'occhiata! E' una caramella al cioccolato al giorno! Gnam! Mi è venuta un'idea! Guarda! A cosa serve? Di A? A? Si adatta perfettamente! Sì! Ecco che arriva! Ecco qua! Bello! Ora faccio io! Tieni la bocca spalancata! Buona! Oh cavolo! Oh cavolo! E ora di aprire! Lo sto facendo! Uova! Super versatili! Le apro! Ogni buona ricetta inizia così! E' il momento di accendere il phon! Ecco che arriva! E ora si cuociono! Visto? Immagino sia il mio turno! Wow! Cosa devo fare con questi? Roba seria! Credo di avere un'idea! Ma comporta un po' di nastro adesivo! Ok! Molto bello! Ora si passa alla fase successiva! Siete pronti? Facciamo così! Li farò uscire uno alla volta! A metà strada! Facilissimo! Yuhuu! E' fantastico! Guarda qui nonna! Wow! Molto bello! Ho scelto un approccio più colorato! Ben fatto! Anche il mio è quasi finito! Sembra davvero delizioso! Vero? Wow! Che bello! Direi di sì! Qual è il migliore? Sono entrambi molto appetitosi! Concordo! Madison so guidare un carrello della spesa! Quella vecchia signora mi ha tagliato la strada! Abbiamo bisogno di cola? Abbiamo assolutamente bisogno di patatine! No! Non è possibile! Oh! E dai però! Goditi la vita! Jared! Dico sul serio! No! Sono miei! Molla! Wow! Che cosa è successo? Ehi! Guarda cosa indossi! Wow! Mi sento così speciale! Ehi! Hai le orecchie a punta! Che c'è? È bellissimo! Potrei abituarmici! Jared, guarda! Ci sono due foglie! Ehi! Non così in fretta! Rendiamo le cose interessanti! Momento fortunato! Quale dovrei scegliere? Questo! Oh! Ne ho uno! Mua! Il mio piano ha funzionato! Guarda qua! Cento! Guarda un po'! Che magia! Cosa sta facendo? Oh! Wow! Sono un sacco di limoni! E ne ho uno! Sono così felice in questo momento! Cioè guardali! È come oro! Giallo e aggrumato! E sono tutti miei! È il mio giorno fortunato! Che aspetti? Sai che i limoni sono aspri, vero? Sarà facile! Guarda! Succoso! Vedi? Non è un grosso problema! Oh oh! Ho fatto un errore! Non posso guardare! Ho bisogno di acqua! Ti avevo avvertito! Così va meglio! Aspetta un attimo! Mi sta avvenendo una bella idea! Brocca! Limone! Limone! Brocca! Sono un genio! È l'ora del succo! Prendi questo limone antipatico! Te ne pentirai un giorno! Dammi tutto il tuo succo! Di più, di più! Voglio di più! Wow! È stato piuttosto facile! Potrebbe volerci un po' di tempo! Ma non mi arrendo! Attento a dove lo stringi! Questo è l'ultimo! Ora diamo un tocco in più! Manca una cosa! Il chiosco di limonate di Jared è aperto! Oh, che bello! Aspetta, da dove vengono quelle persone? Ce n'è per tutti! Solo con tanti! Grazie, tornate a trovarci! Cosa? Ora è un uomo d'affari! Il prossimo! È molto intelligente, Jared! Come posso competere con lui? Amo il suono freddo del denaro! Beh, direi anche basta! No, non posso! So cosa fare! Una spruzzatina di limone renderà il tutto più appetitoso! In forma smagliante, non ho finito! Che ne dici di una spolverata di caramelle? Dolce, croccante e con un tocco di colore! Manca qualcosa! Il cioccolato! Oh sì, guarda un po'! Il cioccolato non è mai abbastanza! Wow, dovrei scrivere un libro di cucina! Ho la collina in bocca! Questo dovrebbe mascherare il sapore dei limoni! Ehm, che cos'è? Hey Madison! Te lo compro io! Che ne dici? Fammi pensare! Vai, dai che ti va! Ok, hai fatto un affare! Ha un aspetto delizioso! Ha tutto ciò che mi piace! Beh, la dieta è finita! È così bello! Devi darmi la ricetta! Ti piace davvero? Che importa, sono ricca! Vado a fare shopping! Stai rovinando il momento! Quanto mi annoio! Cosa dovremmo fare ora? Ho un'idea! Che cos'è? Possiamo girare per la prossima sfida! È completamente fuori dal nostro controllo! Lasciamo che sia il destino a decidere! Mi piace! Sono... Cento! Haha! Io avrò di nuovo uno! Mi chiedo cosa sarà! Wow, pizza! Deprimente! Ma sul serio? Sono nel paradiso della pizza! Così? Tante pizze! È come una torre di pizza! Haha! Beh, non mi sto lamentando! Mh, formaggio! Che buono! Delizioso! È bellissimo! Credo di essermi innamorato! Anch'io! Voglio solo un morso! È il basilico, quello che sento! Serve più formaggio! E tu tieni giù le mani dalle mie pizze! Come ti permetti? Ti conosco! Ecco perché ho un blocca Madison! Le mie pizze sono circondate da un campo protettivo! Ora, se vuoi scusarmi... Pensavo che non se ne sarebbe mai andato un campo protettivo! Sì, certo! Wow, non stava mentendo! Ok, proviamo di nuovo! Oh, sono così vicina! Forse riuscirò a masticare! Non mi arrendo! Woohoo! Ho un bocconcino! Ecco, vieni dalla mamma! Come prendere la pizza da un bambino! Presa, ne è valsa la pena! Farei di tutto per una fetta di pizza! I miei complimenti allo chef! Forse ne prenderò un'altra fetta! Non mi pento di nulla! Ho il mio formaggio! Cosa? Sono sicuro che c'erano altre pizze! Sei stata tu! Io? No! Non me lo sognerei mai! Oh, se la metti così! Insomma, mi hai convinto! Ora è il momento del formaggio! Guarda che ben di Dio! C'è di meglio? Non credo! Wow, c'è tantissimo formaggio! Devo assaggiarlo! Ehm... Come posso dire di no a quella faccia? Ecco qua! Grazie tante! Che solletico! Direi che ci sono! Madison, pesca! Aspetta, voglio mischiare! Ok, vai pure! Sei sicura? Tu hai cento! Che bello! Come ho fatto a non prevederlo? Odio questo gioco! Oh, tipico! Un misero pezzetto di caramella! Cosa ho fatto per meritarmi questo? Hmm, chiedo... A non pensarci nemmeno! Farò piovere caramelle! Quanti colori! Ora mi diverto un po'! È il momento di essere creativi! Voglio fare una torre! Disporrò le caramelle in questo modo! Poi costruisco gli strati! Credo che la mangerò! Ehi, cosa sta facendo, Madison? Sembra divertente! Dovrei indagare! Non così in fretta! Stai indietro! Scappa! Stai bene! Che ha fatto? Oh, è orribile! Piano, piano, quasi finito! Ecco, wow! Jared, dai un'occhiata! Ho fatto una torre jenga di caramelle! E vuoi che giochi? Vai! Io scelgo questo! Uh, che tensione! Hmm, gnam! Ok, è il tuo turno! Oddio! Piano, movimento rapido! Presa! E questa è la mia ricompensa! Mi piace questo gioco! Tocca a te! La situazione si fa complicata! Una mossa sbagliata ed è tutto finito! Giorno fortunato? Posso farcela, sì! Ah! Perdente! E prenderò il bottino della mia vittoria! Come vuoi! La fortuna del principiante o Madison sembra triste! Forse posso fare qualcosa per tirarla su di morale! Spero che funzioni! Se metto questa caramella qui... È così adorabile! Oh, Madison! Che c'è ora? Devi dare un'occhiata? Oh, Jared, che dolce! Mai quanto te! Jared! Mi stai mettendo in imbarazzo! Jared, svegliati! Cosa? Cosa c'è? Voglio giocare! Ah, ok! Scegli! Ecco! Ottima scelta! Che cos'è? Mi è uscito il cento! Oh, lo volevo io! Sei un pessimo vincitore! Wow, non ci posso credere! Quante frittelle! Questa è la cosa più bella di sempre! E me le mangerò tutte! Tu che cos'hai? Non voglio parlarne! Sei proprio un bambino! Ehi, sono pur sempre Pancakes! Non voglio rovinare il mio top! Penso di avere tutto quello che mi serve! È l'ora dello spettacolo! Spruzzo la panna su Pancakes! Oh, sì! Ecco di cosa sto parlando! Tutto sopra! È così leggera e soffice! Oh, hai la panna! Che invidia! È come mangiare una nuvola! Ti ho mai detto di quanto ami la panna? Davvero? Anch'io! Non ne ho mai abbastanza! Posso averne una spruzzatina! Cosa? Questa? Sì, per favore! Hai una forchetta? Cosa? Eh, no! Torno subito! Se n'è andata! Proprio come avevo previsto! Ehi ragazzi, questo vi piacerà! Sostituiamo la panna con la maionese! Madison non sospetterà nulla! Devo essere veloce! Non voglio essere colto in flagrante! Oh sì, questo è diabolico! Ricopro tutti i pancakes! Ci siamo, direi! Oh, eccola che arriva! Meglio nascondere la maionese! Ho la mia forchetta! Grazie, Jared! Figurati! Che bello aspetto! Hai ragione, gnam! Aspetta, che cosa? Perché non ci ho pensato prima? È la cosa migliore che abbia mai assaggiato! Mi stai prendendo in giro? Questa è la maionese, giusto? Non sto capendo! Non credo che riuscirei a mangiare un altro boccone! Aspettami, fammi vedere! Non è come sembra! Maionese, davvero? Era uno scherzo! Ok, grazie! Che sensazione magnifica! Non ce l'hai con me? Impossibile! Mi piace un sacco! Questo potrebbe essere il mio nuovo cibo preferito! Devo provarlo! Ehi! Giù le mani! Cosa? Beh, prendi il tuo! Oh, che confusione! Hai dei gusti stranissimi! E poi c'è stata un'esplosione di brillantini! Ah, è rimasta una fragola! Wow, sembra così succosa! È come se mi leggessi nel pensiero l'assaggio! Non così in fretta! Ho un'idea! La renderemo ancora più grande! Vai, vai, vai! Voglio una fragola gigante! Cosa potrebbe andare storto? Oddio, che è successo? E perché sto indossando un casco? Mi sta bene, eh? Pazzesco! Pronti? Via! Pareggio! Questa la vinco io! Vediamo cosa ho! Au! Mi batte sempre! Gina! Che è successo? E va bene allora, vado per primo! Non mi lamento! Wow, un sacco di banane! Mai viste così tante! Praticamente è un albero di banane! E devo mangiarle tutte? Potrebbe volerci un po', ma mi piacciono le sfide! È meglio iniziare! Niente male! Ecco! Sono una macchina mangia banane! Buonissime! È divertente! Forse per te! Delizioso! Wow, guarda un po'! Chissà che cos'ho! Mmm, crema al cioccolato! Gina, no! Sarebbe un peccato sprecarlo! È quello che Gina avrebbe voluto! Lo faccio per lei! Intingerò la banana nella crema al cioccolato! Mmm, super cremoso! E dolce! Oh sì! Questa sì che è roba seria! Perché continua a succedere? Aspetta un attimo! Oh, sei sveglia! Sembra davvero buona! Dammi una banana! Questa va bene! Rimuoverò la parte superiore! E anche un po' di banana! E lo riempio di crema al cioccolato! Dovrebbe essere sufficiente! Ora aggiungo una spruzzata di latte! Non voglio rovesciarlo! Poi posso mescolare il tutto! Ecco qua! Poi aggiungo la panna! Sarà un'esperienza straordinaria! Non posso dimenticare la cannuccia! Wow, una bevanda tropicale! Assaggiamo! Wow, è buonissima! Sapevo che ce l'avresti fatta! Oh, oh! Ma che... C'è mancato poco! Devo cambiare posto! O indossare un casco! Ecco qua! Oh, Jared, che dolcezza! La tua testa è a prova di banana! Ah! Queste patatine sono davvero croccanti! Proprio come piace a me! Ne è rimasta solo una! Emergenza patatine! Chi la mangia? Perché non guardiamo qui sotto? Va bene, ma non vedevo l'ora di mangiare quella patatina! Wow, guarda un po'! Un gustoso lecca-lecca! Meglio di quello che pensavo! Ok, è il mio turno! Non se ne parla! Non ci credo! Ce ne sono un sacco, tutto mio! No, tutto mio! Ci sono tanti sapori! Non so da dove cominciare! Aspetta, stai scherzando! Wow, pazzesco! Penso che assaggerò prima questo! Sì, è un'ottima scelta! Aspetta, l'ultima patatina! Ho un'idea! Avrò bisogno di uno stecchino lungo! Lo attacco al mio lecca-lecca! Il mio acchiappa-chips tecnologico è pronto! Proviamo! Un po' più in là! Presa! Credevi mi fossi dimenticato di te, eh? I lecca-lecca non sono mai abbastanza! Ah, potrei avere un problema! Niente può rovinare questo momento! Come va, Gina? Non bene! I miei lecca-lecca sono bloccati! Cosa? No! Non temere, Jared è qui! Non è che mi sento sicurissima! Gli darò una tirata! Ecco che arrivano! Fiu, ce l'ho fatta! Gina? Hai un aspetto diverso! Il mio bellissimo sorriso! Guarda, ho trovato i tuoi denti! Qualcuno usa il filo interdentale! Dominic! Oddio, roba da matti! Che bel sorriso! Uh, li prendo io! Quindi si è arrivato a questo! Il biscotto finale! Ti senti fortunata? Non avere paura? Forza! Ci sono! Oh, lo volevo io! Lo prendo e basta! Ehi, molla! È mio! Non è giusto! Ecco qua! C'è solo una cosa da fare! Stai scherzando, vero? Cosa stai facendo? No, sono seria! Uh, bellissimi! Avanti, iniziamo! Ne avrò bisogno! La sicurezza prima di tutto! Prego! Che gentiluomo! Uh, sembra buono! Un worstel gigante! Ah, che invidia! Aspetta! Cosa sta succedendo? Voglio solo del cibo delizioso! Uh, che cos'è? Un bel gattino! Ma è adorabile! Ciao, micino! Voglio abbracciarlo! Credo di piacergli! È l'inizio di una bella amicizia! Lo chiamerò Dave! Mettiti comodo! Chissà se ha fame! Dovremmo dargli da mangiare! Ho del latte proprio qui! Lo porto con me per le emergenze! Bevi! Uh, guarda un po'! Wow, aveva proprio sete! È finito! E ora che faremo? Il worstel è così ovvio! Mi sono innamorato! Aspetta! Cosa? Dove stai andando? Non ti dimenticherò mai! Ti terrò sempre nel cuore! E adesso? Ho tanta fame! Almeno tu! Oh! Sta succedendo qualcosa! Cosa... Cosa sta succedendo? Stai vedendo! Quanti worstel! Stanno ancora arrivando! Ok, è stato strano! Ma almeno ho del cibo! Posso averne uno? Ma certo! Ecco, tieni! Mmm, delizioso! E questi sono per me! Devo prima controllare una cosa! Vediamo! Non va bene! Ho un'idea! Posso usare queste bacchette! Le posiziono su entrambi i lati del worstel! Poi ci farò dei tagli! Per tutta la lunghezza! Le bacchette mi impediscono di arrivare fino in fondo! Terrò i tagli distanziati! Ehi Jared, guarda qui! Ho apprezzato ogni singolo boccone! Dei veri worstel succulenti! Magnifico! Wow, bello! Ti senti bene? Non importa, mangio lo stesso! Ne è valso la pena di aspettare! Aspetta, riesci a sentire qualcosa? C'è qualcosa lì dentro! Scambiamoci! Uh, è stato intenso! Apriamo! Oh, del delizioso formaggio! Mi fa piacere! Devo ancora aprire il mio! Ehi, dai un'occhiata a questo! Non me lo aspettavo! Mi chiedo cosa faccia! Eh, l'hai visto? Piove formaggio! Cosa? Non ha alcun senso! Ma io continuo! Voglio una pila di formaggio! Anzi, una torre di formaggio! Penso che sia sufficiente! Wow, è enorme! Mi divertirò! Indietro! Sta per diventare un disastro! È l'ora del formaggio! Eh, non è andata a secondi piani! Oh, il mio formaggio! Perché è dovuto accadere? Divertente! Una deliziosa fetta di formaggio! Mi sento come un topo! Eh, non ci entra! Che confusione! Cosa sto sbagliando? Quindi è così, eh? Ti faccio vedere io chi è il capo! È colpa tua, formaggio! Ora l'ho gratto! Oh sì! Molto meglio! Pezzi perfetti da mordere! Proviamo di nuovo! È morbido, cremoso e formaggioso! Che delizia! Ha un bell'aspetto! Ricostruirò la mia torre! Spero che rimanga tutto intero! Gnam gnam! Oh, che fastidio! Caramelle e video! Non c'è niente di meglio! È troppo divertente! Oh, ho finito le caramelle! Che fastidio! No, non ci credo! È proprio quello di cui ho bisogno! Arrivano i rinforzi! Wow, fantastico! Hai visto, Julie? Voglio provare anch'io! Ecco! Wow, ha funzionato! Questo è il nostro giorno fortunato! Guarda quante! E sono tutte mie! Ordinane di più! Puoi contare su di me! Eh? Allora? È rotto! Non lo so! Dovrebbero piovere caramelle! Ah! Attenta! Wow! Oh, interessante! Potrebbe essere divertente! Credo che quelle blu siano le mie preferite! Hanno tutte lo stesso sapore! Quindi cosa si dovrebbe fare? Wow! Non me lo aspettavo! Guarda questi pop tube! Sono enormi! È davvero fantastico! Tutto qua! Meh, vabbè! Lexi, guarda! Lo userò come una cannuccia! Succhierò tutte le caramelle! Buone! Ok, ne voglio ancora! Non riesco a smettere! Dammi, dammi! Mamma mia, ne ho tantissimi! Questo è il giorno più bello della mia vita! Ma cosa ci faccio? Ah, lo so! Inizierò con questo! Unisco le estremità e lo metto intorno a una torta! Poi cambio colore! E continuo ad accatastrarli! Ora, dei tubi più piccoli al centro! È il momento delle caramelle! Ah? Non mi pento di nulla! Uffa, ladra di caramelle! Fai sempre così! Cosa ti aspettavi? E che stai facendo? Devo fare una telefonata, pronto? Voglio tutto quello che hai! Subito! È meglio che mi prepari! Aspettiamo! Oh, ecco che arriva! Ehi, da questa parte! Che sta succedendo? Sono confusa! Ecco, lì! Lexi, cosa sta succedendo? Wow! Un po' più in là! Ok, basta! Oh sì! Così va meglio! Wow, sembra fantastico! Proprio un bel lavoro! È una torta di caramelle e appartiene a me! Cosa sto aspettando? Mangiamo! Wow, è la cosa migliore di sempre! Morbida, dolce, croccante e gustosa! Posso assaggiare! Dai, mi sento generosa! Wow, e vai! Mi chiedo cosa faremo questa volta! Credo che questo risponda alla tua domanda! Aspetta, tutto qui! Un uovo! Sul serio? Oh, andiamo! Cavolo, sono un sacco di uova! La gallina deve essere esausta! Io mi metto ai fornelli! Guarda e ammira! Inizierò separando l'uovo! Questo gadget lo rende davvero facile! Metto il tuorlo in padella e accendo il fuoco! Avrò bisogno di questo spiedino! Lo spingo nel tuorlo! Mi sembra che sia pronto! È come un lecca-lecca all'uovo! Tutto qui! Sì, tanto sarà buonissimo! Mh, gnam gnam! Ci voleva proprio! Ho in programma qualcosa di speciale! È meglio aprire queste uova! Potrebbe volerci un po'! Uno in meno, ne mancano molti altri! È meglio che acceleri! Sono una macchina rompi-uova! Oh, è dura! Mi sta venendo appetito! 96, 97... Perché a lei vanno tutte le cose belle? Questo era l'ultimo! 100 uova! Ora devo sbatterle! Ma non lo faccio a mano! Questo farà tutto il lavoro! Uhuh, guarda come vanno! È stato velocissimo! C'è ancora molto da fare! Verso le uova nella teglia! Via! Darò una scrollata per distribuirle bene! E poi via in forno! È cotto alla perfezione! Lo tolgo dalla teglia! Sembra buonissimo! Ma ha bisogno di qualcos'altro! Ci metto sopra delle fette di formaggio! Poi ricopro con altro uovo! Ora del pane! E ora un altro strato di uova! Ho sempre più fame! Ci cospargo sopra questi peperoni! E poi ancora uova! Il prossimo ingrediente è il salame! Ora lo arrotolo! Questa è la parte difficile! Non voglio che gli ingredienti cadano! È un burrito all'uovo! Lo taglio a metà! Vediamo la sezione! Voglio vedere tutti quegli strati gustosi! Wow! Sei un genio! Devo provarlo! Per favore! Sapevo che l'avresti detto! Va bene! Te ne taglio una fetta! Ecco qua! Spero ti piaccia! Grazie, Lexi! Un attimo! Perché la tua fetta è più grande della mia? Non mi sembra giusto! Sono lo chef! In effetti! Ma non sono felice! Ti sto prendendo in giro! Il cebo gratis è sempre bello! Wow! È una bomba di gusto! Sapevo che ti sarebbe piaciuto! Piacermi! Lo adoro! Hai ragione! È pazzesco! Ti tengo d'occhio! Pensi di farmi paura? Basta! Premo il pulsante! Oh! Ecco che arriva! Popcorn croccanti! È il mio turno! Sì! Oh! Quindi è così, eh? Continuerò a premere! Voglio una pioggia di popcorn! Julie! Adesso è troppo! Non mi sto lamentando! Che cosa è successo? Hai premuto troppe volte! Ciao! Sarà emozionante? No! Una casa di cioccolato! Aspetta ma! Hai ricevuto solo una barretta di cioccolato! Non serve essere cattiva! Sto ancora elaborando! Voglio dire guarda quella casa! Non ho mai visto nulla di simile! Sembra un'opera d'arte! Sarebbe un peccato mangiarla! Ma lo farò! E me la gusterò! Iniziamo dal tetto! Lexi! Guarda! C'è qualcosa lì dentro! Aspetta! Quelli sono troll! Uh-uh! Eh! Un'umana! Ehi! Quello era il nostro tetto! Accidenti! Sembrano arrabbiati! Scusate colpa mia! Ha rovinato la nostra casa! Non so cosa dire! Sì! Ditegliene quattro! Lo ha fatto apposta e le è piaciuto! Vedi! Ha capito! Sei una vera amica delle nazioni dei troll! Queste sono per ringraziarti! Wow! Non ci credo! Fantastico! Cosa? Dovresti essere più come lei! Infatti! Ho capito! Non vi importa proprio del vostro tetto! Non è male! Farò una torre di cioccolato! Auguratemi buona fortuna! Posiziono le tavolette di cioccolato in questo modo! Fin qui tutto bene! Per fortuna ho la mano ferma! Lexi! Shhh! Devo concentrarmi! Sta andando bene! È piuttosto alta! E sembra buonissimo! Se prendo questo pezzo... Oh-oh! Devo nascondere le prove! Me lo ficco in bocca! Non lo saprà mai! Cosa... Cosa è successo? Che cosa hai fatto? Eh? Non so di che parli! Tutto il mio duro lavoro rovinato! È tutta colpa tua! Come hai potuto? Sono così arrabbiata! Forse un po' di cioccolato ti tirerà su il morale! Dai! Potrebbe essere d'aiuto! Da qua! Attenzione trosto! Arrivando! Non vedo l'ora! Uh! Ramen! Guarda qui, Lexi! Ho una ciotola minuscola! Cosa ho fatto per meritarmi questo? Uffa, odio questo gioco! Sono tantissimi! Sono così felice! Eh? Guarda la tua ciotola! Beh, credo sia meglio iniziare! Buon appetito! I miei capelli sono d'intralcio! Dovrò legarmeli! Aspetta! Posso usarla! È come avere delle mini bacchette! Funziona! Sono colpita, Lexi! È stato facile! Spero che abbiano un buon sapore! Oh, sì? È stato divertente! Ne voglio di più! Ok, almeno ti piacciono! È meglio che inizi anche io! Forse se faccio con le mani! No, non credo sia una buona idea! Come va, Julie? Non ho bisogno di bacchette! Ho questo! Guarda qui! Guarda come li tira su! Presi! Ora posso mangiare! Oh, sì! Troppo buoni! Sono davvero gustosi! Che cosa ho appena visto? Brutta l'invidia! Stai indietro, potresti sporcarti! Julie, no! Niente, può fermarmi! Mi sto divertendo troppo! Aspetta, guarda qua! Non sprecarli! Mi sento così viva! Continua! Non fermarti! Devo usarlo più spesso! Rende divertenti stare a tavola? Mi sta piacendo! Anche a me! Hai detto qualcosa? Lexi, perché hai del ramen sui vestiti? Eh, l'ultima tendenza! Ah, ok! Che sfida deliziosa! Se poteste mangiare un solo alimento in quantità, quale scegliereste? Faccecelo sapere nei commenti qui sotto! Ricordate di condividere questo video con i vostri amici! Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per altri video gustosissimi! Grazie per la visione!